Il ricordo di questi centenni, una vita che si è vissuta vicino a l'Inter per cent'anni, per chi l'ha riusciuto a vede, in tempi diversi, non si è stata pesante, si è stata forte. Questo senso di un'Inter non lascia cadere le cose senza far rumore. Lei ha detto che è legato molto all'Inter di sua parte. Sì, sì, sì. E che fa un stile un pochettino, questa è la sua in. No, non strega. Io ho proprio fatto sentimentale fortissimo le persone che ricordano, perché è stato quel periodo che abbiamo vissuto con un'intensità naturale, come figli, perché era una sofferenza, per una gioia, ma comunque è una vita strassata. E adesso più o meno siamo nella stessa situazione. È chiaro che i tempi sono cambiati, c'è una comunicazione diversa, che è stato pieno di assistente, però ecco, sono due storie diverse, ma due storie che vorrei che finissero bene, come è finito bene l'altro rischio. No, non è giusto. Pelo che è giusto regolare, la nostra vittoria non sono le sconfitte degli altri. E quindi mi aspetto a quello, insomma, per festeggiare i centenni, mi sono andato per poi i tifosi. Grazie a tutti.